Cari figli, vi invito a pregare non chiedendo, ma offrendo un sacrificio, sacrificando voi stessi. Vi invito all'annuncio della verità e dell'amore misericordioso. Io prego mio figlio per voi, per la vostra fede, che sta sempre più diminuendo nei vostri cuori. Lo prego di aiutarvi con lo Spirito Divino, come anch'io desidero aiutarvi con Spirito Materno. Figli miei, dovete essere migliori. Solo coloro che sono puri, umili e ricolmi d'amore sostengono il mondo, salvano loro stessi e il mondo. Figli miei, mio figlio è il cuore del mondo. Bisogna amarlo e pregarlo, e non tradirlo sempre di nuovo. Perciò voi, apostoli del mio amore, fate crescere la fede nel cuore degli uomini col vostro esempio, con la vostra preghiera e con l'amore misericordioso. Io vi sono accanto, io vi aiuterò. Pregate affinché i vostri pastori abbiano quanta più luce possibile, per poter illuminare tutti coloro che vivono nelle tenebre. Vi ringrazio. Pregate affinché i vostri pastori abbiano. Pregate affinché i vostri pastori abbiano. Pregate affinché i vostri pastori abbiano. Grazie a tutti